, 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 cazzo mi hanno sparato a delta porto E' andato, io ti ho trovato un ucciso nuore. Oh cazzo! Sì, non smaggia. C'è l'altra C'è l'altra C'è l'altra non c'è non c'è non c'è c'è chi c'è chi c'è chi madonna Oh, che cosa so... Objective dog is ours! Non patate! Non patate! Placi charges! We are back! Know that we have lost objective easy. The enemy now control all objectives. Halfway there, but we are losing this. No! Objective. Optimus! Shut up! Okay, hey! Oh Vabbè quello è sempre lì Ma sta uno che lo ripara perché sta sempre full vita quello cristo di voto Noi dovremmo rompere la stazione Noi 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 Ah Noi Ah Eh proprio è strano questo giro Noi L'infrarossi che fanno solo se dà se mi sta da là D'avessi sembra che era un ammazio No Cosa Non è stato un po' di pazzia, mentre effettivamente correvo. Poi si trova un mato. Oh, è morto. Oh, cari. Sì. la sagra dell'hs ragazzi la sagra dell'hs ragazzi